Ampiamente prevista dalle previsioni, anche nel capoluogo è arrivata una leggera nevicata che sin dalla scorsa notte ha interessato l'intero territorio comunale. Questa è la situazione registrata questa mattina, con traffico regolare sulle principali arterie stradali, cittadine e pochi disagi per la circolazione dei mezzi pubblici. Situazione sotto controllo, tanto da non spingere il Comune a chiudere le scuole, dove si è svolta regolarmente l'attività didattica. Nulla a che vedere insomma con le precipitazioni abbondanti che hanno riguardato le altre province abruzzesi, dove sono stati registrati accumuli anche di oltre mezzo metro. Diversa invece la situazione segnalata in alcuni comuni dell'Interland, come Barisciano o Pizzoli, dove già nella giornata di ieri erano state registrate nevicate più copiose. Qualche disagio invece in alcune piastre del progetto case, con tubature ghiacciate e caldaie in blocco, che hanno mandato in tilt i telefoni della società che gestisce la manutenzione delle New Town, presi d'assalto dagli inquilini. Sorridono invece gli operatori del Gran Sasso, albergatori e scuole sci. Grazie alle nevicate di questi giorni e al lavoro degli operatori del centro turistico, potrebbero essere aperti a breve gli impianti di risalita. Si attende solo un ralentamento della morsa del maltempo per aprire una stagione già contrassegnata comunque da un pesante ritardo rispetto alle altre stazioni scistiche abruzzesi.